E' arrivata la prima neve del 2014 qui in città, i fiocchi hanno cominciato a scendere questa mattina intorno alle 9.30 e Piacenza si è subito imbiancata. L'avevamo attesa da tanto, quindi fa piacere. A lei piace anche se provoca qualche disagio? Sì, mi piace molto, però ne dica poco, dovrebbe ne dica molto di più, quasi da avere l'illusione di essere in montagna. Hai un po' un abbigliamento da montagna, oggi è la prima neve. Lo sfruttiamo finalmente, un investimento almeno lo sfruttiamo. Senti, e com'è la prima neve del 2014? Io vorrei che fosse più abbondante per stare tutti in casa, sotto le coperte, un giorno ce lo possiamo concedere, no? Preferivo non vederla a Piacenza, comunque non fa freddo. Bella però dai, fa sempre piacere, finché è così e poi si scioglie. E' bello, questa è una neve bella, non mi dico che è brutta. Se fosse sempre così ti metterei la firma. I piacentini apprezzano dunque anche se la neve provoca inevitabilmente qualche disagio al traffico. Irene ha messo in funzione 11 mezzi spargisale. A partire dalle 12 la neve ha cominciato a mischiarsi alla pioggia e sulle strade si è creata una poltiglia scivolosa. Traffico regolare sulle autostrade, le forze dell'ordine raccomandano di viaggiare con pneumatici da neve e di guidare con la massima prudenza riducendo la velocità. Per il momento la neve non sta provocando particolari disagi al traffico autostradale. Quella che vedete alle mie spalle è la 1 e la circolazione è piuttosto regolare. La polizia stradale ovviamente raccomanda la massima prudenza. Diversi sono stati gli interventi del 118 per soccorrere persone cadute a causa della neve. Per fortuna i malcapitati hanno riportato solo lievi contusioni. Il blocco del traffico del giovedì a Piacenza è confermato nonostante la nevicata. Sulle colline e montagne piacentine nevica da ieri sera questo il paesaggio ad Agazzano. Decisamente imbiancata anche Bettola. Disagi si registrano soprattutto sulla statale 45 e il maltempo riaccende la preoccupazione per le condizioni di alcune frane.